e bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo anche con lui indovinate un po' andiamo al bullying e sì spero che ci siano assali macchinette ma credo sì e poi faremo anche la partita al bullying quindi registro anche quella ragazzi poi il bullying non andremo in macchina ma andiamo a piedi perché a 9 minuti a piedi ci vorrà poco spero aspettate lì in quel cartello esatto quel cartello lì dove leggete quella parola rossa c'è il bullying ragazzi stiamo partendo c'è anche mia mamma ciao e adesso 9 minuti a piedi arriviamo seguiamo il navigatore ma tu tutto in giri? sì ma per questo non metto intanto l'apps no ma goditi l'esperienza ma non sai col telefono ma non tutto questo è in questo modo e camminiamo da là c'è un minimo di marcio a piede sì poco chissà dove sarà il bullying hai messo il navigatore adesso quasi ti sei andato dritto e poi gira a sinistra via leonardo da vinci anche così mi piacciono ragazzi comunque sì ma non c'è il marciapiede cammina sul marciapiede non c'è il marciapiede ci mettiamo qua ma in realtà se cammini proprio al limite ci passi ti puoi non g Σtrudì non c'è ma quante andava quello che partiva c'è? ragazzi io metto la registrazione quando arriviamo perchè sennò qua non ci muoviamo qui cioè il video dura 3 ore come è durato quello di reglo quindi faccio il video quando metto di nuovo il video quindi adesso tra 10 secondi vedrete your bullying ragazzi pochissimo più avanti c'è il bullying siamo praticamente arrivati è lì ragazzi se vedete quel è lì siamo attaccati ragazzi bullying di diano perfetto siamo praticamente arrivati ragazzi bullying di diano euro spin si tranquilla minigolfo c'è l'iPhone stiamo andando lì questi bullying di diano eccolo qua è da capire? è questo l'entrata a sinistra ma l'entrata ma l'entrata abbo mi ha dato far figgiare te l'ho detto non ascoltate mai siamo arrivati ok 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 Grazie a tutti